Secondo me bisogna guardare totale in due partite, adesso pesa ancora di più quel passo falso fatto a Verona, perché purtroppo se loro avessero vinto dove noi abbiamo giocato bene, lì non ci sarebbe stato niente da dire, perché comunque hanno dei giocatori forti che possono, esperti che hanno vissuto queste situazioni, però purtroppo è la partita meno buona e meno bella di tutto l'anno secondo me e che ci ha fatto pesare anche stasera un po' perché i primi 2-7 abbiamo giocato veramente bene, abbiamo portato in scioltezza il risultato che se fossimo stati quelli di sempre a Verona e adesso saremo qua a festeggiare, però purtroppo non è stato così, non che non abbiamo avuto le chance anche stasera a portare a casa il risultato, poi bisogna vedere ovvio che in Golden Set cosa sarebbe successo, però terzo set purtroppo loro sono partiti subito bene 9-1, nonostante il nostro rientro, ci siamo arrivati anche a due punti in un paio di occasioni con le opportunità di ribaltare il risultato, 9-1 era veramente tanto, per cui nel quarto eravamo sempre avanti e verso la fine ci hanno ciuffato e quindi purtroppo non abbiamo potuto fare prima tie-break, non abbiamo potuto fare sì Golden Set che alla fine poi non lo sai mai, quella è sempre una lotteria, per cui mi dispiace molto non aver fatto una finale europea che penso che questi ragazzi l'avrebbero e l'hanno meritata sicuramente, però adesso basta, adesso chiudiamo questo capitolo qua, pensiamo alla partita di Trento che dobbiamo concentrarsi a fare del nostro meglio sabato. Grazie. Grazie. Grazie.